Pensato su degli algoritmi. L'algoritmo, che sembra una parola complicata, è ciò che usiamo tutti i giorni quando prepariamo la pasta. Cioè è una ricetta. Prendi due litri d'acqua, mettili sul fuoco, aspetta che l'acqua arrivi al punto di ebollizione. Questo è un algoritmo. Allora, un algoritmo, io penso che proprio per sua natura, strutturalmente, non può essere costruttore del bene comune. Ti faccio un esempio. Se un bambino di 4 anni, migrante, muore su una spiaggia, io, che sono giornalista, posso decidere che tu lo debba vedere, anche se non volevi vederlo. Perché credo che sia importante per la nostra società prendere coscienza di certe cose. Facebook lo cancella.